Piccoli e grandi, vi aspettiamo! 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 E allora, quando vi aspettiamo? Beh, vorrei aspettare che ero un po' di gente! Spero che non ci sia solo voi! Sì e no! Consiglio! La cosa è estrella! Di gente! C'è le tante di noi! Ma stasera è tutto incontrato per vedere YouTube! 4.875. Ricordiamo che il programma è sottotitolato alla pagina 777 delle video! C'è un po' di gente! C'è un po' di gente! Così fa! Dai, su, smettila di scheruzzare! Burattinaio, cosa intendi per speciale? Vedete? Di solito ho su questi burattini! Ma per una occasione speciale come questa! Tiro fuori dei burattini che recitano! Cantano, danze! Insomma, fanno tutto la sua! Senza che ho solo una idea di abbandonare! Ma scusa, non ci prendi in giro! E' impossibile! Quei ci vediamo! Un po' di pazienza ne vedrete allora! Sono veramente eccezionale! Ma quest'anno io ci raccomando questo video! Con queste strane burattini! Volevo raccontare! La più grande solle d'amore di tutti te! Ah, cara, cara! Più grande di quella di Beautiful! E' impossibile! Sono 4.875 puntate che parlano! E' ancora contigo! Quella che vi raccontarò stasera! E' ancora più grande! E' la più grande di tutti! I protagonisti sono le giovanette che vivono tranquillamente in un piccolo villaggio della casa di me! I loro nomi sono Maria Giuseppe! Giuseppe Tampalegna! E' la sanitaria con la vostra! I clienti non hanno! E vengono tutti per la sua serietà! E per la sua famiglia! E inoltre! Non chiede molto persone! Non mercantigia mai per un cliente! E con sé mi manca prima la scadenza con essa! E' un peso insomma! Eh sì! Secondo i criteri di giudizio che ho avuto da me è un peso! Ma io ho quello che sfuggiamo di essere! E Maria? Raccontaci di Maria! Ma io ho una ragazza molto speciale! Diversa da Reale! Servizio quello con lui! Pronto a prendere servizio! Ogni partito! Purti liberare dalla capitulata! Sempre pronta a dare una mano! Ed è così a lei! Che forse ogni momento la sentita! Non prega molto! E' una solita inizia! Sono sposata e... No! Sono ancora fidanzata! Ma stanno facendo... L'ultimo preparativo per il matrimonio! Eh sì! Bisogna pensare ai clienti! Al braccio! Agli inviti! Alle bambolette! E poi! E poi! E poi rispettivamente da venire fuori il marito! Prozzo! Maschio! Scevinista! Vlucca luffa le tagliate! Anna ragazzi! Non c'è bisogno di arrabbiarsi! Comunque! Maria non è il tipo che si porta troppo a cuore da queste porte! Anzi! Spesso! Se ne va solo sul matrimonio! Sta solo in paese! E rimane lì in silenzio e contemplare la costruzione! Giuseppe Rosano! E così! Finito il lavoro! La raggiunge e la racconta la casa! Proprio qui inizia la storia! Ecco! Sta' cominciando lo spettacolo! Allora ti chiedevi come! La raggiunga la scuola! Grazie a tutti. 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 Un consiglio. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 orshipare. con questa superficialità un incontro costituito di fede, eccetera, perché è stata proprio la fede che ha spinto Maria a dire di sì prima addio e poi all'esigenza della sua vecchia cucina, sola, tra le montagne e per di più con un marito molto unziano. Mi sembra la storia di Agri. Vede, Maria è stata spinta dall'affetto e dal desiderio di evitare il sabato e in incontro di più domani che hanno saputo rispondere sì anche un cattivo a questo pilota. Ma voi avete fatto tanto fare, tanto poeta, ma dici, tu, l'avresti fatto? Ma sì, lo sarai con tanto poeta, tante belle cose, tante belle parole, ma poi si sa dove finire, per dire pare, ci sei di mezzo tu, che rovieni tutto con le tue solite tassi, ma se ti se ne importa, perché ti c'è il seno e per il suo, ognuno pensa sua fa quello che può. E senza tenere il conto, che quando ci chiedono il lavoro, abbiamo sempre una cammina che ci scappoli, finiti se ti viene trovato quella condizione, mi pare di vedere come te le sarete svegliate. E' inutile, avete troppi paraocchi, non riuscite a vedere al di là del vostro naso, il fatto che io, ma anche voi, non siamo capaci da fare qualche difficoltà, per me che c'è il vento di non incurrere il bisogno, ma non significa che sia impossibile. Eh, ragione, dobbiamo imparare a far funzionare meglio la mamma con te. A te, ma che stai dicendo? Deve essere un amico di quello storico. Eh, sì, avete capito bene, ciascuno di noi non è, ma non serve che ci troviamo nella posizione di giusta, per uscire a capitare il messaggio, cioè la necessità e i bisogni dei tuoi. Certo, ma c'è chi è te e chi invece. No, attenzione. Servire gli altri non vuol dire di venire meno alla responsabilità sociale che tu sei chiamato, se sei un operato. Deve fare prima di tutto il tuo lavoro, cercando di capire che non puoi proprio che mi gira male, trovi una scuola che non è male a lavorare, facendo di passare bene avanti. Se sei un operato, d'accordo, ma se sei uno studente, come fai a non marinare qualche gioco di scuola? È una mia questione, io ne sono state professionale. Poi, no, anche se sei studente, non c'ho un operatore, il discorso vale per tutti. Solo quando faccio bene il tuo lavoro e poi, anzi, devi ritallare per dare una risposta alle sue necessità. in un'altra risposta alle sue necessità. la pienezza è la gioia una volata donna saliamo al mondo mio la mani della piazza è un po' adesso è un po' adesso la pienezza è la gioia la pienezza è la gioia la facciulla dentro il mio amico la pienezza è la gioia 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.